Studio del Canto Gregoriano Solem Justizie Responsorio 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 Solem Justizie bakedo Solem Justizie awareness Solem Justizie pensée Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, potrebbe essere intonato un pochino più basso perché c'è questa parte che sale troppo e bisogna sforzare la voce. Studio del canto gregoriano Giovanni Vianini, Scola Gregoriana Mediolanensis. Mi trovo nella chiesa di San Pietro e Paolo in Prima Luna, provincia di Lecco, sullo sfondo l'organo Serassi di Prima Luna.